11 ottobre finalmente vedrà di fronte le due superpotenze in un summit che ha come obiettivo la riduzione delle armi nucleari in Europa. Ma sti capelli come me l'hanno fatti? Qui in sala c'è un'atmosfera di grossa attesa, Reagan e Gorbachev sono in ritardo sul protocollo, le loro scorte non sono ancora arrivate, faremo senz'altro più tardi del previsto, per cui Mario non rientro per cena, abbi pazienza, scalda la vitella al bambino perché non ce la fa. E non fa sta faccia, è tutto pronto sul forno, accendi la manopola rossa, non te sbagliassi se no riannamo per aria tutti quanti. Ma scusate mi fanno cenno che siamo al momento cruciale, finalmente l'emozione è al massimo, Gorbachev e Reagan stanno entrando fra poco l'abbraccio, sarà vero amore? Grazie. Well, Mr. Gorbachev, it's a small big step for all the world. Nemiti neusniki, doberi viaccero, Sarkovo. Ecco, dopo lo scambio dei saluti, cominciano le trattative vere e proprie. Well, Mr. Gorbachev, there is only one reason we are here, is to find the best solution for both. Tovareg Reagan, doveri drubosni. Doveri drubosni. You don't understand? Oh my God, don't you speak English? Niet, English. Parlavo franzai. Niet, franzai. Spreken di Deutsch. No Deutsch, no German, I'm sorry. No, no, I'm sorry, I can't. Niet, Deutsch, niet, Swedish, niet, Polish, je l'ora aranjati. Aranjati. Parla italiano. Anche tu? Eh, mi potevi dire prima che parlavo italiano. Parlavo italiano. Oh, basta, no. Sono tanti anni che ci incontriamo senza capirci niente, ma valla che bella, bella, nesta storia. Ma roba da male. Allora, caro Ronald, torniamo a bomba. Sì, facciamo un prezzo, però. Se c'è in mano dieci persing, devi calare almeno di quattro. E allora tu devi calare di sette. Come di sette, casomai di sei. No, di sette. Ma come faccio a calare di sette se tu mi esi a denore? Ah no, scusa, io tengo il fanta. Io tengo il re. Eh no, io ho l'asse, con l'asse prendo tutto l'H3 e il B2. No, scusa, B2 me l'hai già colpito e affondato. Vuoi vedere F6? F6 colpito e affondato. U5. U5, niente. Senti, l'F3 da quante testate è? Da due o da tre? Da due. Ah no, avevi detto da tre prima. No, da due. Ha cambiato la carta in tavola. No, mi ricordo perfettamente. Disarmo da tre. No, no, non mi ricordo. Te lo portarei l'ente. No, only three. Ecco, pare, si sia creato il primo momento di grossa attenzione. I capi di Stato non sono d'accordo sul problema delle testate. Non è questo il problema. Dice Regal, non è un altro il problema. Non si sa quale sia il problema. Il problema... Allora, il problema è questo. La mamma va da Gorbaciov e compra dieci missili. Spendendo... Spendendo 20.500 lire, sapendo che Gorbaciov ne ha già dati due aggeddati e ne ha persi quattro nel sottomarino, quanti soldi rimarranno alla mamma sapendo che ha speso lire 2.000 per riparare l'ombrello spaziale di Regan? Non copiare Gorbaciov. C'hai sto vizietto sempre, eh? Consegnate ragazzi, consegnate, consegnate ora, consegnate, consegnate quello che avete scritto, avete scritto, consegnate. Allora, alla mamma rimangono 50.000 lire. 50.000 lire, signori miei, è il prezzo dell'offerta di questa giornata. Allora...